Conad è il supermercato dove la qualità, la convenienza e la cortesia rappresentano il valore di fare la spesa i prodotti migliori, i sapori genuini, l'ambiente adatto per le tue esigenze ma soprattutto l'amore per il gusto e la tradizione Supermercato Conad, via Carnetiello, Agropoli-Salerno, telefono 0974 84 33 47 Questa settimana sconti del 50% su detersivo liquido, passata di pomodori, pizza bella Napoli Conad, persone oltre le cose